18 di vita 3, 2, 1 Mamma mia! Avanti così! Devastante Clash! Mirato proprio là E poi Devastante Buon pomeriggio ragazzi Ci troviamo su Rainbow Siamo già 4 contro 5 Su PC Nello yacht gigantesco Con il nuovo operatore Maverick Quindi vediamo di riuscire a fare Qualcosa di sensato Perché non vorrei proprio Creparci immediatamente Proviamo in questa maniera Qua non c'è ancora nessuno Molto bene Quindi possiamo procedere al meglio Voi ditemi sotto giù nei commenti Come vi sembrano questi nuovi operatori Se avete già provato la base Di Airford Epocale Qua non hanno distrutto sta cavolo di telecamera Quindi ci penso Mi Allora Allora Interesting C'ho la mira Svirgola Non vedo niente Ah ma questo è un nemico Percavolo Lo Non vedo niente No vedo niente E andiamo avanti così raga E andiamo avanti Questo purtroppo non mi serviva nulla Il gadget Ci siamo siamo molto arrugginiti Ma ci siamo raga E adesso siamo clash Quindi vediamo di rinforzare Qualche bella parete Tipo Queste si mi piacciono queste Questa non lo so se la barrico Ma questa di sicuro si Dai non vedo l'ora raga Di riprovare anche la mappa favelas Perché sono mappe belle Che non si vedono quasi più Ed è bello raga rigiocarle Mi arrivo a dare una mano raga Incredibile guantappino It's here Here Non potevo fare assolutamente nulla E si è atterrato anche lui Questo genio del male Lì non potevo fare Absolutamente niente Abbiamo perso Perché abbiamo la squadra un po' Così Quando indichi io uno La posizione di uno È un po' un casino L'hanno anche rianimato E quello si è fatto anche la kill Non ci credo E adesso si può andare Dai picca maledetto Sempre con il maverick Ma questa volta con il calibro 50 E subito E subito Il pulse Che fa spawn kill E quello Ci crepa Ma come cavolo hanno barricato qua Che cavolo Che cavolo Adesso E what up raga Con il maverick Sono devastanti Che cavolo Che cavolo down to one friendly ho sparato che riflessi da topo morto che c'ho l'avevo visto guarda ero lì che guardavo ho detto adesso li sparo si adesso li sparo prossimo anno non posso mangiarmi sti round così ma porca vaccombola speriamo adesso di rifarci perché così non va assolutamente bene il maverick è devastante raga non vedo l'ora veramente di poterlo provare non sui tps ma nel gioco vero e proprio se possiamo dire in questa maniera veramente raga non vedo l'ora di potermi mettere qua e giochiare molto molto bene qua facciamo così anche se il filo spinato qua non è che mi garbi molto proviamo a piazzarlo qua fuori dai tutto il filo spinato fuori lasciamo ah qui si espiarà il mira quindi il filo spinato fuori ci sta un botto vabbè io sto dentro raga che cavolo ne so stiamo tutti dentro oh ah ok lì ha messo il mira vabbè dai speriamo che quella lì non sia una trappola doppia cosa lì che ci frantumino in duemila pezzi sto io qua vai tranks vuoi stare te la che cavolo vuoi ma che cavolo la gente è devastata raga ah hanno aperto la sbottola no non hanno aperto la botola hello my friend qui non avete rinforzato porcellini bravo picca complimenti stiamo perdendo un round tu picchi bravo picca anche te porcellino curioso dai proviamoci no no credo di averlo ucciso con la scarica elettrica era una kill epocale quella è andato da sopra dai è andata bene dai è andata bene è andata bene e adesso match supplementari e quelli fanno già spawn kill giochiamo uno in meno la cosa non è alquanto proficua per noi sempre con il mega maverozzo e ecco l'altro crepa sempre andiamo avanti così cioè morire senza spawn kill è possibile in sta cavolo di partita o è troppo cioè dai raga su facciamo fuori un paio di camo un po' di robe come potevo appendere eeeh purtroppo eeeh così raga eeeh così brutto maledetto porcello non ti posso infucare non ti posso infucare non ti posso infucare Eh lì nell'angoletto Non potevo fare niente Eh sono stati bravi loro raga Qua proprio L'ho visto E sono morto Peccato 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 Questo è fermo Ma con che cavolo di squadra gioco raga Vabbè rai o gg a voi Però sta partita si poteva vincere Se la gente non quittava Se non facevano meno cavolate Sta partita si poteva vincere Perché gli avversari erano veramente Nulla di che Per questo video raga è tutto Spero vi sia piaciuto Questo qua continua a stare fermo Spero raga che le partite su pc vi piacciano Io chiaramente ho molto molto da migliorare Qua su pc perché non gioco a questo gioco Raga da una vita Impareremo sempre e sempre di più Qui ho fatto un 5 1 3 Oh l'unico in positivo Almeno quello raga Quindi io vi saluto Vi ringrazio dalla mappa yacht Dagli operatori maveriche clash E tutto E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Grazie per la visione!